Uè! Non pescare un'altra scusa! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAGLE! Uè! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e anche oggi un sacco di notizie per quello che riguarda i prossimi giorni di Fortnite e le 24 ore precedenti proprio ad oggi. Tante tante news nel video di oggi a partire anche dal torneo pomeridiano di ieri che ci ha regalato uno standardo il primo di 7. Se non ricordo male facilmente ottenibile facendo semplicemente 20 punti tornei in squadra del venerdì sera. Ma nel video di oggi finalmente news ufficiali da parte di GameStop per quanto riguarda il piccone mint. Ascia piperita in italiano potrò darvi finalmente qualcosa di interessante su cui far fede. Non demordete ragazzi ce la farete anche voi ad ottenere il piccone ma anche notizie per quanto riguarda una delle skin inserite due patch fa la Dark Tricera Ops e la versione oscura del Rex il Dark Rex. Se non ricordo male saranno anche queste a breve disponibile per alcuni invece lo saranno ben prima e ovviamente una bella sbadilata di leaks per tenervi sempre aggiornati sul dietro le quinte e sulle news di Fortnite. Prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi fanno compagnia e mi seguono in live su Twitch dalle 8 alle 18 sabato e domenica fino alle 13 mi raccomando grazie mille ragazzi per tutto il vostro supporto e grazie anche a chi utilizza il mio codice creator xuderone mi raccomando ragazzi taggatemi e mandatemi le vostre foto di Instagram quando scioppazzate e non dimenticatevi di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video. Prima però la domandina ve la devo fare e grazie anche per aver risposto ieri in tantissimi ai commenti qua sotto domanda di oggi molto molto personale ma te che cosa aggiungeresti in questa season? Devo dire che finalmente abbiamo risolto i problemi di lag ci siamo potete dire quello che volete armi veicoli skin eventi quello che vi viene in mente io personalmente aggiungerei un veicolo bellissima la mappa adesso l'abbiamo capita ok sono stufato di correre prepotentemente per varie varie città vorrei adesso muovermi più velocemente anche se mi ributti dentro il drift world sarai contento ugualmente quindi fatemi sapere la vostra risposta qua sotto nei commenti ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance andiamo subito subito a parlare dell'argomento più caldo quello del piccone dov'è il piccone mint io voglio il piccone mint mi hanno inculato con il piccone mint cioè sono successe cose che anche spiacevoli io vi consiglio sempre di ascoltare i venditori che vi consiglio ma vi do una dritta forse non è può non è più necessario fare la caccia al piccone quindi gamestop manda un tweet sulla sua pagina ufficiale di twitter dove dice hey i got of any of those minty pkx codes ce l'avete i codici del piccone in poche parole tradotto in italiano questo potrebbe voler dire che verranno rilasciati allora come funziona questa storia ancora non è chiarissimo ma se si parla di gamestop in teoria noi in italia abbiamo gamestop una data 6 novembre 6 novembre dovrebbe essere la data di rilascio ufficiale del piccone tutti quelli che vedete il mio e quello di altre persone è perché è un sono codici rilasciati anticipatamente per far vedere in game il piccone ma dal 6 novembre in teoria e poi vi informerò andando da gamestop e facendo un acquisto dedicato a fortnite sembrerebbe facendo un acquisto dedicato a fortnite ma secondo me ne avrà talmente tanti che ve li regalan giù così sarà possibile ottenere proprio il tagliandino con il piccone queste sono informazioni voci di corridoio preferirei darvi la certezza non appena ce l'avrò anche io comunque ragazzi dai vedrete che sicuramente otterrete anche voi questo piccone e andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi la skin tricera ops e ovviamente la controparte maschile dark rex alle mie spalle c'è la locandina del torneo giapponese che si chiama switch cap ho delle informazioni un pochettino più dettagliate come vedete l'immagine il logo di questo torneo è proprio una skin ancora non rilasciata ufficialmente play and win questa è la descrizione ufficiale tradotta dal giapponese all'inglese e io ve la dico in italiano gioca e vinci nella fortnite switch cap i giocatori che otterranno 20 punti quindi come quello che è successo a noi ieri o di più riceveranno la skin ancora non rilasciata tricera ops quindi per loro tutto gratis questo non succederà purtroppo a noi probabilmente che dovremo a pagarla ma c'è il discorso che se non ricordo male in giappone non hanno lo shop e quindi sono obbligati a regalargli per farli stare un pochettino più attivi direttamente dai pre games quindi ci sono anche altre due ricompensi interessantissime se fai cinque punti ti danno il cab lama spray ve lo farò vedere magari domani in game se me lo chiedete il lama quello con l'esplosione da dietro se fai dieci punti prendi il piccone squid striker che è quello del leviatano il polpo praticamente quello con l'occhio se non ricordo male e poi ovviamente se fai 20 punti ti danno la dark tricera ops quindi in realtà ufficialmente non si parla ancora della versione maschile quindi del dark rex magari a loro danno questa e a noi danno il dark rex e per noi intendo tutto il mondo per chi non le avesse ancora viste ecco le immagini ad alta definizione della dark tricera ops del dark rex molto molto belli con i rispettivi back pack che ovviamente sono le varianti dark delle skin che già conosciamo e non mi parte il coso vabbè e andiamo avanti ragazzi anche se non partono le cose anche sul prossimo argomento così a questo interessante avete presente il balletto spooky ghost quindi quello che è uscito ieri nello shop il balletto gara gara ecco forse l'avete già visto forse no ma è un balletto spudoratamente copiato da un altro balletto di tik tok vi faccio vedere il video originale che è veramente molto molto carino mi tolgo io che tanto so brutto come la fame quindi non preoccupatevi e il balletto in questione è proprio questo forte e quindi ragazzi molto molto curiosa questa cosa non credo che il ragazzo in questione andrà a fare problematiche ad epic games però era giusto per darvi una notizia fresca in più e chiudiamo l'argomento di oggi ragazzi parlando di alcuni bug che sono in sistemazione da parte di epic games ci arriva direttamente un post ufficiale su reddit per quanto riguarda il battle royal abbiamo un problema nella modalità re della tempesta dove la nebbia è un pochettino troppo intensa e da un po fatica nei movimenti e nel vedere quello che c'è in giro per quanto riguarda la modalità creativa ci sono dei frame c'è una specie di cerchio rosso che viene mostrato intorno al al pet al famiglio quindi backpack con gli animali qualora lo indossaste e per quanto riguarda save the world c'è un problema nell'incrementare una rarità del nightfall schematic che credo sia ovviamente un'arma per i curiosi questo è l'immagine appunto che vi dicevo del cerchio rosso intorno al backpack insomma ragazzi anche per oggi tutte le news io ve le ho date vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video mi raccomando iscrivetevi ai canali noi ci vediamo alle 8 in live su twitch ciao